Signor Litua! Signor Litua! Signor Litua! Per il film che spacca a Disney Channel c'è La Voce che Spacca Giusto! Ricordate l'invito a inviarci un provino per doppiare un personaggio del film Disney Ralph Spacca Tutto? Mr. Litwack! In tantissime avete partecipato! E adesso ecco le tre finaliste! Ralph Spacca Tutto! Tu come ti chiami? E' l'uso, vero? Giada! Non sono mai stata prima d'ora in uno studio di doppiaggio Me lo immaginavo un po' più piccolo Non vedevo l'ora di smegliarmi e venire qui nello studio di registrazione Chi è che se la sente di provare per prima? E' un gioco divertente, eh? Ora comincia il gioco duro Per loro una giornata da vere doppiatrici La prima volta lo ascoltiamo in silenzio Poi lo facciamo parlando sopra alla bambina Sapete come si fa a gridare? Sempre respirare prima Con la bocca aperta Così non ci si rovina la voce Quando mi hanno comunicato di essere una delle serialiste Subito non ci ho creduto Ho saltato per tutta la casa Non me l'aspettavo Solo una diventerà la voce italiana del personaggio Allora vogliamo cominciare? Ma vediamo come se la cavano a Leggio le nostre giovani doppiatrici Dov'è lo Spacca Tutto? Fammi sentire come la fai Dov'è lo Spacca Tutto? Quindi dovrei mettere più voce, eh? Dov'è lo Spacca Tutto? Un po' più scocciata Dov'è lo Spacca Tutto? Dov'è lo Spacca Tutto? Lo Spacca Tutto? Lo Spacca Tutto? Dov'è lo Spacca Tutto? La sfida è più ardua del previsto Ehi! Ogni giorno un nuovo pilota La legge Avere una direttrice del doppiaggio è strana come sensazione Ogni volta un nuovo pilota Voce fuori dal corpo Fare a Leggio è stato molto divertente La prossima partita è mia Subito sembra una T che sembra una D Ma difficile La prossima partita è mia Brava, così Spacco Tutto! Ma scopriamo insieme qual è la voce più giusta per il personaggio Signor Litua Signor Litua Signor Litua Qual è la voce che spacca giusto? Veronica è troppo grande Elisa è troppo piccola E Giada è giusta Ormai è chiaro Eyo! La voce che spacca giusto è quella di Giada Sì Complimenti Allora, Kennedy Non l'aspettavo proprio Va, sei bravissima Signor Litua Brava Non ci resta che sentire Giada al cinema E goderci la storia del nuovo film Disney Ralph Spacca Tutto con La voce che spacca giusto Mi all'aspettavo No!